L'associazione culturale Bioforme presenta una festa d'arte, Bioformisti in mostra, il 14 giugno con i TKP, in Milano a Ramingo solo andata, venerdì 14 giugno l'Inventa TV, canzoni a 32 denti, domenica 13 giugno presentazione del libro La saggezza dell'improvvisazione e per finire la sevillana, assaggio di flamenco, chiedo tutto questo dove? Numero due